Abbiamo fallito, ma faceva parte dei vostri piani, forse. Eh, sì. È giunta l'ora della resa dei conti, immagino. Un momento, che vuoi fare? Spedisco il diavolo all'inferno. Tradire Molder e me. E tradire tutta l'umanità, Alex. Spedisco il diavolo all'inferno. Agente Schelli. Buongiorno. Buongiorno. Come si sente? Un po' meglio, direi. Devono ancora completare gli esami. Ecco. Io? Sì, l'ho già saputo. L'ho perso. Non so cosa aggiungere, l'ho perso. Mi domanderanno. Che cosa ho visto? E non posso più negare quanto ho visto. Non voglio. Lo ritroveremo. Devo ritrovarlo. Aspetti, c'è... C'è un'altra cosa che voglio dirle. Però gradirei che non ne parlasse con nessuno. Non riesco ancora a dormire. Una spiegazione. Sembra incredibile. Però... Aspetta un figlio.